Non si sblocca in provincia lo stallo politico della nuova giunta a Florido, uno stallo che da tempo tiene scoperte le due postazioni, quella della vicepresidenza e quella lasciata aperta dopo le dimissioni dell'ex assessore Michele Conserva. Dopo le numerose indiscrezioni di rimpassi annunciati, ora la notizia è quella che la nuova giunta in realtà potrebbe non arrivare. Due le motivazioni alla base dello stallo, una politica, l'altra economico-finanziaria. La prima è sostanzialmente riconducibile ad una mancata intesa sui nomi e numeri degli assessori all'interno dello stesso Partito Democratico. Nel PD al momento si contrappongono infatti due anime, una che in ragione delle difficoltà finanziarie dell'ente e delle amministrazioni pubbliche in generale vorrebbe mantenere ridotto a 5 o 6 il numero dell'aggiunta. Area questa di cui fa parte il consigliere Cassano, l'altra invece che insiste per il completamento dell'aggiunta aria Mazzarano che spinge ad esempio per l'ingresso dell'ex assessore Vito Miccolis. Vedi incrociati insomma, una contrapposizione tutta interna ai democratici che blocca di fatto il varo della nuova giunta, ma non solo. A condizionare tutto c'è anche la pesante partita finanziaria ai 7 milioni di euro di disequilibrio che la provincia deve fronteggiare e che, ragionano in provincia, spingerebbe lo stesso presidente a non sovraccaricare l'ente di ulteriori spese di giunta, peraltro a fine mandato. Insomma, bocce ferme almeno per ora e a meno di inattesi colpi di scena come un allentamento del patto di stabilità che strozza gli enti locali e che potrebbe invece rappresentare una boccata d'ossigeno. La partita per ora è aperta.